Ci troviamo in una nota sala ricevimenti di Molfetta dove si terrà una sfilata di un noto brand italiano E qui con noi una nota modella internazionale, venezuelano, milionari Sei contata di essere qui ancora una volta a Molfetta? Sì, per me è sempre un piacere poter stare qua in tutta la pulla in genere Poter sfilare per questa azienda nazionale che è Clips E vabbè, quel lavoro bellissimo, questa sala, il New Lions, spettacolare, il senario, il clima Tutto si presta per fare una bellissima serata Tu sei legata a Molfetta perché ormai ci torni spesso, cosa ti piace di più? Di Molfetta io direi la gente, comunque è sempre calda, sempre ti fa sentire in casa Ho lavorato con tante persone del posto e devo dire sono dei professionisti Questa è la cosa più bella di Molfetta, che ci sono tanti professionisti, tanta gente con talento, veramente E se dovessi dare un consiglio alle donne che sono normali, cosa consiglieresti di mettere? Tutto dipende dall'occasione ovviamente, dipende di che cosa ti fa sentire comoda Ogni donna è diversa, ogni donna si deve espressare a se stessa anche nel modo di vestirsi Io dico per la moda, per il vestirsi, non ci sono regole Quello che ti fa sentire comoda, quello che ti fa sentire a te stessa Che è come ti la senti, così devi essere La cosa più bella che devi portare è sempre l'attitudine Quella è la principale cosa che devi portare dappertutto La tua attitudine, un bel sorriso e basta E quali sono le tendenze per quest'anno, autunno e inverno, visto che tu sfili per tanti marchi? Questo anno, autunno e inverno, penso che vedrete della sfilata di questo noto marchio come Eclipse Ci porta un po' di bianco e nero, che il nero non manca mai per l'inverno Anche un po' di classico Quindi lo vedrete nella sfilata e potrete scegliere quelli che sono i capi vostri o più adatti per voi Grazie